e dunque oggi sono qui per recensirvi una nuova pasta sintetica che ho comprato, ho provato e a giudicare quanta ne ho comprata, io direi che mi ha soddisfatto abbastanza, ne ho comprata veramente tanta, allora la pasta in questione si chiama To Do ed è della linea YouClay, non so se voi ne avete già sentito parlare, io qui su Youtube non ho trovato molto, però ho trovato alcuni articoli su vari blog di creative, sia italiane che, no più che altro italiane, che in effetti hanno provato questa pasta ed io vedendola nel centro commerciale dove vado di solito, dentro il reparto belle arti di Leroy Merlin per la precisione, l'ho vista e sono stata colpita da tre fattori, il primo è questa splendida scatolina di plastica, infatti la pasta è contenuta proprio qui dentro, il panetto è il classico panetto da 56 grammi, come il Fimo e come i panetti piccoli del Cato, allora la prima cosa che mi ha colpito è che, a differenza del Cato Polyclay, che ha pochi colori e quindi io devo ogni volta miscelare il colore che mi interessa ed è una cosa che vi assicuro un po' è fastidiosa e se io devo trovare un difetto al Cato Polyclay è questo, non ha una gamma di colori eccezionale, ha i colori base, ha un verde chiaro, un verde scuro, un marrone, un color carne, un rosso, insomma un giallo, un arancio, quindi sono solo quelli i colori, non ha delle sfumature particolari, quindi innanzitutto sono stata colpita dal numero di sfumature di colore, che sono davvero salutante e ci sono anche delle linee effect di questa pasta, diciamo che hanno degli effetti particolari, poi c'è la scatolina di plastica richiudibile e riutilizzabile, infatti io che ho già consumato vari panetti le riutilizzo poi per metterci dentro gli avanzi, le cane e devo dire che sono molto utili perché insomma il Cato e il Fimo hanno questo difetto della bustina che si straccia, poi bisogna trovare un sostituto della bustina, poi alcuni tipi di plastica vengono corrosi dalle paste, quindi. E il terzo fattore che mi ha convinto a comprarla è che c'è scritto ideale per gioielleria, alta qualità con cera di api naturale. Ok, ora, ideale per gioielleria è la cosa che mi ha fatto scegliere il Cato Polyclay perché il Cato Polyclay è stato appunto realizzato su richiesta di Donna Cato proprio per realizzare i gioielli, quindi è molto resistente, ha un'ottima finitura, io a volte il Cato Polyclay non lo lucido neanche, cioè non ci passa neanche la vernice perché è perfetto così, esce dal forno perfetto, a volte un poco poco mi faccio un leggero sanding con un po' di carta ma insomma, non, voglio dire, il Cato è perfetto e quindi insomma, ho voluto provarla ragazzi perché anzitutto, vabbè, costa 2 euro, il prezzo è nella media, più basso del Cato comunque, perché a volte serve un colore, io non ho la possibilità, non ho un negozio qui a Napoli che vende il Cato Polyclay purtroppo e devo ordinarlo o da Hobbyland o da Persenco ovviamente quando fate un ordine online, un minimo 2 giorni se ne passano e se non ha bisogno urgentemente per una creazione di un colore particolare o perché finisce il translucent o perché finisce il nero, insomma questi colori di cui non si può fare a meno e allora io vado vicino casa e lo compro, fondamentalmente questa è stata la ragione, dopo che l'ho provato devo dire ragazzi che mi sono davvero stupita, mettiamo le cose in chiaro, questo non è il Cato Polyclay, il Cato Polyclay è molto, molto superiore a questo, ma questo a sua volta è secondo me molto superiore al Fimo Classic, non parliamo del Fimo Effect perché io ormai non lo uso proprio più, non riesco proprio a usarlo, il Fimo Effect soprattutto l'estate è una tragedia, è un incubo, va bene, allora, perché io do un voto alto? Perché la cosa che mi infastidisce del Fimo è che molto facilmente cambia colore in forno, quindi io che studio gli accostamenti cromatici perché mi piacciono in determinato modo, voglio che il risultato sia quello che ho pianificato e non sempre con il Fimo questo mi capita, è la cosa più che mi dà fastidio e soprattutto con il Fimo Translucent mi capita che cambi di colore ed è una cosa che non sopposto per niente del Fimo, non tutti i panetti lo fanno, non tutti i colori lo fanno, molto stanche nella cottura, però devo dire che secondo me il Fimo cambia colore, mentre il Cato Polyclay è preciso, perfetto, come da crudo così è da cotto e questa pasta idem, perché questa pasta davvero è molto molto simile da cruda di quanto lo sia da cotta, allora adesso io vi faccio vedere con un panetto che ho già aperto, questo è aperto, vi faccio vedere com'è la confezione, allora qui c'è una confezione di cartoncino che contiene all'interno le istruzioni sulla cottura e su come viene lavorato, allora va in forno a 120 gradi per circa 30 minuti e ovviamente il tempo varia a seconda della grandezza della creazione, quindi molto vicino alla cottura del Fimo, non del Cato, quindi io cerco di non mischiare questo il Cato perché ho notato che se io tengo questa pasta alla temperatura del Cato che è 150 gradi, il risultato è brutto perché non cuoce bene all'interno e rischia di bruciarsi, è un po' come quando mettete le torse a una temperatura troppo alta, si bruciano all'esterno e dentro sono crude, più o meno l'effetto è quello, soprattutto per gli oggetti un po' più grandi, adesso vi voglio far vedere com'è il risultato, cioè il colore, telecamera permettendo, da cotto e da crudo, adesso vi prendo una perla che ho fatto con questo colore e vi faccio vedere l'effetto, allora eccomi tornata, vi faccio vedere una perla cotta e la pasta cruda, sperando di riuscire a rendere l'idea, ovviamente questa perla è decorata con della pasta bianca, però voi vedete il colore della perla cotta e della pasta cruda? È praticamente identico, è identico, non è cambiato di una virgola, inoltre ha un effetto molto bello perché è marmorizzato, infatti di questa pasta esiste, sia la variante, la pasta normale, che ha, vediamo se la trovo, la pasta normale, sì, allora diciamo che questa qui con questo bordino arancione sono i colori base, normali, in cui c'è il bianco, il nero, il translucent e l'argento e l'oro, fanno parte anch'essi della linea normale, poi c'è la linea che ha questo bordino viola, vedete il bordino, questo arancio e questo viola e sono i colori marble, quindi c'è l'elac marble, c'è un verde, ci sono varie sfumature, devo dire, di colori marble, anche questo marble, prato marble, oddio scusate, prato marble e così via, sono molto molto belli questi, questi colori. Un'altra cosa fantastica di questa pasta è che il translucent ha un effetto davvero trasparente, il più trasparente, il più trasparente che io abbia mai visto, più delcato, molto più delfimo. Per darvi un'idea ragazzi, in questo ciondolo, questa parte qui dove c'è la texture, no, non è una texture, vabbè, ma dove c'è il disegno, sopra tutto questo, siccome c'è uno strato di foglia d'argento, io l'ho ricoperto con uno strato di transparent appunto della linea to do e guardate voi la trasparenza di questa pasta, cioè lo strato sottostante, il colore blu, eccetera, si vede perfettamente. Certo, lo strato è sottile, però io sfido il cato e il fimo a fare un effetto del genere, cioè veramente eccezionale, questo mi ha convinto a ricomprarla, anche qui si può notare, vedete, questo è tutto trasparente e si vede perfettamente il disegno sottostante, quindi perfetto per qualunque creazione che coinvolga foglia oro, foglia argento, foglia bronzo, eccetera, ok? Quindi è veramente veramente trasparente, è veramente bello. Ah, e poi, vabbè, vi dicevo, vi volevo far vedere l'effetto invece del cato polyclay, questa è una perla semplicemente cotta, non è stata in alcun modo trattata né con vernice né c'è passato abrasivi o cose del genere e guardate, è perfetta. Quindi io penso che a vita continuerò a utilizzare il cato polyclay perché non ci sono paragoni con le altre paste, anche se questa to-do a me sembra che sia veramente valida. Un lato negativo della pasta to-do che tutti quelli che utilizzano il cato polyclay notano è che la consistenza è morbida, non morbidissima come il Fimo Soft, è meno resistente del Fimo Classic, quindi è una via di mezzo tra Fimo Classic e Fimo Soft. Naturalmente è molto lontana dalla consistenza del cato, si modella bene, si mescola bene, i colori si mescolano bene. L'unica cosa che ho notato appunto facendo la differenza con il cato polyclay è che essendo più morbida è inevitabile che sia più facile che prenda le impronte digitali e che quindi abbia bisogno di un trattamento successivo alla cottura. Quindi niente ragazzi, io ho utilizzato questi colori che adesso vi dico e tutti mi hanno dato una buona resa e nessuno di questi ha risultato cambiato nel passaggio tra prima e dopo la cottura. Quindi quelli che ho provato io sono Dried Moss che è questo verde, il Gold che ovviamente come tutte le paste non è come il metallo perché l'unico modo per avere il metallo è usare i pigmenti, cioè l'effetto metallo. Siamo molto lontani dal Prato Marble, questo verde, il translucent di cui ho comprato quantità industriali, poi c'è questo pink marble, l'argento, questo che ho quasi terminato è l'Indian Turkish Marble numero 49, poi gli altri vabbè sono tutti doppioni più o meno quelli che ho, tutti i doppioni. Ah no c'è Tangerine Orange che è stupendo, è un arancio meraviglioso, Cherry Red che è un rosso indiano, molto bello. Ragazzi i colori sono belli, 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 belli. Quindi niente ragazzi, io questa pasta ve la consiglio, se l'avete sotto casa dategli una chance, se siete già soddisfatti dal fimo, questa è proprio la pasta che sto per voi, perché a differenza del fimo non cambia colore e poi è davvero molto resistente, cioè è vera che è fatta appositamente per i gioielli perché io l'ho testata, l'ho lanciata a terra, qualche perla e anche i dettagli piccolini non si sono rotti, magari è fortuna, quindi non è detto che uno debba martellare le perle o lanciarle in aria, però se capita che cade non succede assolutamente niente, ovviamente quando è cotta bene, quindi utilizzando le istruzioni di cottura. Ok ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima recensione o al prossimo tutorial. Ciao! Ciao!